Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Gianforchio97 in versione Daubol Quindi potete chiamarmi se volete Daubol Gianforchio97 Come? Non avete ancora visitato il secondo canale? Visitatelo subito! Il link qua sotto in descrizione ovviamente è lasciato da Mirko Perché io non so fare niente con i computer So solo registrare la voce Ciao!